La musica ha sempre accompagnato l'uomo, l'esistenza dell'uomo, anche nei momenti difficili, durante la schiavitù, nei campi di concentramento. Oggi continua ancora ad esserci, perché la maggior parte di noi è chiusa in casa e noi come ensemble, come PMC, abbiamo voluto realizzare un lavoro di ensemble, di insieme, pur stando ciascuno nella propria casa. Eseguiremo la parte finale della composizione di Louis Andrissen, che si chiama Occhettus. Questa composizione è del 1977, è ancora fresca, è ancora nuova. Si basa su questa tecnica medievale, l'Occhettus. L'Occhettus è un principio di costruzione per cui con due voci se ne realizza praticamente una suola continua. E allora è come due ruote dentate. Queste ruote si incassano perfettamente, il dente dell'una nello spazio libero dei denti dell'altra. Quindi ci sono due gruppi. Questi due gruppi si fronteggiano. Ciascuno emette una nota alla volta, ma la emette nel momento in cui nell'altro gruppo c'è una pausa. E allora una nota a incastro, un'altra nota a incastro e si crea una melodia continua. Allora questo è proprio un simbolo. Un simbolo che in questi giorni in cui siamo tenuti tutti lontani l'uno dall'altro, noi ricreiamo l'insieme. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.